Gunn Matson, mistero e silenzio nelle profondità di un impianto compositivo che agglomera un sogno che diventa realtà. Un genio poetico del nuovo linguaggio pittorico lanciato verso le nuove generazioni attraverso la moderna pittura figurativa. Le sue opere raccontano la complessità di soggetti che appartengono alla civiltà dell'arte in una fusione di tradizioni e contraddizioni secolari. Premio Giulio Cesare Imparatore 2018 all'artista Matson Gunn. Ritira il premio l'artista Matson Gunn. Well, la lingua italiana overscrivete. Maestoso, teatralico, bellissima, grazie académica italiana. Grazie a tutti. 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 i romani sono felici, e ovviamente anche di loro. Questo fantastico Caesar mi ricorda anche di Accademica perché qui abbiamo anche i barriere cercano di proteggere e abbiamo anche la cultura e tutto quello. La nostra artista è molto contenta di essere qui. Lei crede che con l'arte, la cultura, la musica, la cultura in generale il mondo sia migliore, fantastico. Ringrazia l'Associazione Accademia Italianarte nel mondo. Grazie. I see something here. I see Caesar on a throne with diamonds. I see him on a cloud of gold. And he's nodding to us, saying, Grazie a tutti, Accademia Nelatinen Mondo. Grazie a tutti. Mi dovrebbe fare lo stesso con la cultura e la scienza se non poteva fare. Ma ora è il tuo turno. Hai dovuto fare quello che non poteva fare. Quindi è con noi. Grazie a tutti.